Ciao da Sandro Cane, sono appena arrivati questi pannier ultraeconomici della Forever come vedete sono i water resistant, hanno questa maniglia qua nel sistema per attaccarli sono degli strappi come ho visto, degli strappi che si attaccano al rack vedete come vedete hanno uno scompartimento qua esterno uno scompartimento interno diviso in due adesso vediamo se riusciamo a aprirla con una mano che è sempre più difficile tra l'altro io non ho un sistema motorio molto efficace eccolo qua e qua ci sono i due scompartimenti interne mi servivano un paio di panni erano piccoli per provare come stanno sulla Willy Wonka e adesso vedremo come si comportano e da questo è tutto, ci vediamo nel prossimo video hanno anche carta di frangente qua benissimo, al prossimo video mi raccomando di iscrivervi ciao ciao